Bologna in area di rigore c'è un fallo di mano chiede Ferguson da parte di Darmianna in mezzo all'area di rigore per un salto è tutto a posto azione a rivedere attenzione perché adesso palla basso per Barro ed è il gol di Barro io andrei a rivedere l'azione di prima che sono il rigore secondo me io tornerei indietro gol supera il possibile rigore clamoroso vantaggio del Bologna destro di Barro in mezzo all'area di rigore all'angolino alla sinistra di Onana che è arrivato in ritardo fuori gioco netto fuori gioco netto perché fa anche la finta fuori gioco è evidente è evidente non può dar sto gol se darà sto gol sarebbe un errore clamoroso Martino per Lukaku che spuca tra due giocatori il tiro di Lukaku 15esimo e 44 secondi Lukaku prima l'angolo poi commentiamo anche questo prima l'angolo colpo di testa di De Vrij non è angolo rimesso dal fondo ci ha provato Bologna in avanti con Ferguson palla è buona in area di rigore attenzione Dominguez stoppa è al limite dell'area cerca di liberarsi Pallazzolini ancora Cambiaso il tiro la sassata di Cambiaso e ancora traversa credibile ribattuta di Onana poi tiro ancora e traversa il sinistro Miki è stato Miki Tarjan dopo aver ricevuto da Lautaro Martinez sinistro di poco alto squillo Inter 31esimo minuto sulla destra c'è Darmian che controlla il pallone adesso avanza ha di fronte a essere un avversario poi cerca porta palla Lautaro centrale poi attenzione Ciananolupar calce in porta per Skorupski non è difficile ovviamente lo fa anche per evitare magari i problemi di ripartenza però è anche giusto l'idea di tirare da lontano questo terreno l'Italia e Ciananolupar si sentirà benissimo da lontano attenzione cross di bastoni Lautaro di testa di poco alato ma pochissimo veramente pochissimo altra occasione Inter occasionissima direi bastoni cerca il cross deviato attenzione errore male male poi attenzione la conclusione di sinistro parata prima opportunità pulita bella per l'Inter è un tiro non motivato questo un'altra grande occasione per l'Inter 10 secondi fa Piro cross di Gosen sta alla sinistra Gekko di prima intenzione nel cuore dell'area di rigore in sinistro la parata di Skorupski dai Inter adesso abbiamo un'anima un po' più pugnace adesso adesso ci sono dentro i Barella c'è Gekko c'è D'Ambrosio al posto di un Dunfriss c'era dire che Gekko in 5 minuti ha fatto più di Ducacco in tutti gli altri 60 e allora attenzione Stouten Stouten Ursolini ed è gol incredibile ha parlato del gol ha parlato di Lautaro il gol ha fatto Ursolini un'altra disattenzione Barbara puoi sorridere non ti trattere ti guardavo perché ti ho visto insomma il gol del Bologna nel momento forse tra virgolette migliore dell'Inter e adesso riparte l'Inter 1 minuto e 20 Darmian Gosens Gekko in conclusione Skorupski Gosens sinistro e Skorupski rispinge coi piedi buona conclusione di Gosens ancora bravo Gosens dal limite dell'aria